Ti prego, ti prego, ti prego Blade, palese e furri Dai Blade, palese e furri Fermi Che è una fanart che gira su Pinterest di Blade & Echo Non voglio saperlo Vuoi un po' raccontarci qual è la situation? Ci aggiriamo sul PG che è a PT8 e le armi sono a PT13 Eccolo qui Blade, 17.400 cristalli e 8 ticket Hai qualche sorpresina? No E direi che facciamo un pronostichello goloso Votate signori, votate Gioco, ascoltaci, bisogna vincere un 50-50 su Blade Allora siamo a 8, come vuoi andare avanti? 8, 18, singole Dicci Allora, sono uno dei meme più incarnati di questo Discord Quindi perché non procedere a tocchi di meme? Raggiungiamo 22 Signori, 8, 18 Prima molti, se esce subito, esplodo Let's go Rollo Purtroppo no Di 4 stelle chi ti interessa? Piange Non saprei Non saprei Capisco Capisco Ok Ma c'è sempre sto scritto light con sopra? O è una cosa nuova? Sì Ah sì Ok No, ho notato io, capisco Oh, Arlan Arlan è l'unico che non ho costellato, quindi va bene Io credo in questo PG, questo PG è del potenziale Tutti dovevano Tu credici che prima o poi arriva, vai tranquillo Siamo a 18, quindi vuoi andare di singole fino a 22 Absolutely yes E ricordiamo una cosa Il pollo Nel forno Eccoci Perché se no qua Eh Eh? Eh, su Shang Sì, però Mi sento così, Cotto E va bene, ogni volta stanno sempre lo streamer Ci siamo io e Shiki che ci stiamo guardando in un modo un po' ambiguo Andiamo, 19 Let's go Let's go Let's go Ma ok Eh, 20 Se non vado errato 20, sì, sì 20 Eh, 21 21 Quindi la prossima è un 5 stelle palese Pronti? Ragazzi, 22 Palesissimo 5 stelle Easy Partenza via? Ti immagino, cioè, veramente Purtroppo no Ma almeno danni il demise come 3 stelle Va bene, niente Lasciamo questo Come vuoi andare avanti a questo punto? Direi che andiamo Col Diretto Doppio di 22 Quindi arriviamo a 44 Ok, quindi vuoi fare Singola multi Così facciamo 33 auguri Cristo Singola 44 gatti Cioè, praticamente il meme finale Esatto Capisco Esatto In più sarebbe 22 22 Salgo le scale a 2 a 2 Regà Mi sta praticamente distruggendo il cervello questo ragazzo 23 Eccolo appunto Un altro Arlan Un altro Arlan così Back to back Va Oh Prendetevi Rendezvous Signori Con la potenza di Cristo Boom Evviva Cristo Niente ragazzi Si torna a bestemmiare Non è uscito niente Eh sì È cursa Devo staccato No, no, no Non è cursa Non è cursa Ancora Vai, il 4 stelle almeno c'è Vedi 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 Vorrei anche vedere avvocato Capisco Comunque 33 34 Per poi andare un 44 goloso Mais Ti pare Io direi faremo un Miau di gruppo Oserei dire Perché Si va a 44 Aglio 3 Miau Siete pronti? Sì 1 2 3 Miau Bravissimi Giughe Però signori Il miau della vita Ti prego Ti prego Ti prego Blade palese furry Blade palese furry Fermi Se non esce perché non l'hai fatto a te Ricordatelo Mutual demise Regà lo sta chiamando Facciamo bene Lo sta chiamando Ti prego Ti prego Ti prego Goal Nel caso Fermi Nel caso Mai Blade Ma nel caso non lo fosse Chi vorresti? Ma ripeto è Blade Palese Imeko Imeko Come Imeko? E mi manca solo quella Ma ti piacciono le morte Scusami Imeko Vabbè lasciamo stare Fermi tutti Fermi tutti In game si parla Perché Imeko è palesemente morta Ti prego E Blade E Blade Vabbè Mio padre Ti prego mio padre Ti prego Trend of Vabbè Ti prego Papà Ma c'è il 5 stelle Il latte papà Il latte Ti prego Distraction Cloud Perfetto Perfetto Mi distruggeva Il miau Il miau Grazie Regà 44 miau 44 miau Ormai abbiamo Arrivo Arrivò subito Sottomatte Va a segarsi palesemente Sta andando a segarsi Aspetta ho la soundboard giusta per questi momenti Un attimino Guardate la crema La crema Entra da sola Crema 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 Eccola qua Questo è Uber adesso signori Posso dirlo onestamente Per Blade avrei fatto anche Bark Però vabbè Quello Penso che sia più Furry Tipo alla Tingyun Eccetera Non Alla Fullmetal Alchemy Una fan art Che gira su Pinterest Di Blade and Echo Non voglio saperlo Signori Facciamo goloso Incredibile sondaggio Cosa troviamo Lightcon di Blade O non Blade Lightcon 100.000 punti Di Casira Sul no E vabbè Niente ragazzi Ma E niente E poi Dall'altra parte Abbiamo Il marito Onion Che va A supportare Yubel 64.000 punti Sul sì 13.23 Si trova il 5 stelle Vado 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 E' palese E' palese Neanche sto a dirlo No ragazzi Sarebbe stato un po' troppo 4 stelle di armi Non sarebbe male Quella in rate up Per Blade Non questa Peggio di me Ma ho pulato nelle armi Sì Sono un po' confuso Da questa punta Sì 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 Quindi 13.23 Direi Auguri Cristo Quindi Ah vuoi rifarlo? Eh certo Signori posso avere Per favore Once again Auguri Cristo In chat Sì Tocca Tocca 23.33 Signori Vabbè Signori Vabbè Ti chiami Richball side Non sei Richball Bro 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 Signor Cristo L'abbiamo fatto Gli auguri Signor Cristo Signor Cristo Allora Hidden shadow A secret Che è buonissima Per Blade Buonissima Ma Sapete cos'è meglio Per Blade Questa qui Questa qui Signori Let's go Let's go Così tanto Mi non ho sentito Tra un po' Scusate ragazzi Ho overreactato Vado in bagno Torno subito Vai vai Buona sborrata Bello Ma vi immaginate Se clicca c'è un'altra Vi immaginate Oppure E incredibilmente Ce n'è un'altra Ma non è di Blade Così è il granito Per le prossime A questo punto Dammi quella di Dammi quella di Shepard A questo punto Scusami Quindi Light con di Blade Siamo ritrovata Completiamo il pronostico Molto 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 bene Io non vorrei dirlo Ma io sono Un meme vivente E con i meme Ho trovato quello che volevo È vero Chiaramente Ora vediamo se c'è un'altra Effettivamente Potrei Impazzire Shared feeling Quindi un altro Quattro stelle Mutual demise Ti serve Mutual demise Non penso proprio Ma Ma in che senso Capisco Capisco Perfettamente Posso dire una cosa Però Basta che non sia una bestemmia Però capirei No 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 Avvocato Io se la beccano Andiamo a un bel museo E mi faccio il calco Delle tue mele Ciao Ciao offices Già Ciao 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 Grazie a tutti.